Per la prima volta devo ringraziare le ragazze, perché stanno giocando un match molto difficile e lo conosciuto dopo il vincere in Macedonia. Abbiamo aspettato un match molto difficile qui in Italia, ma stiamo chiedendo per questo vincere e sono molto felice perché stiamo giocando in questo vincere. Innanzitutto vorrei congratularmi con le giocatrici, hanno giocato una spremiglia partita. Abbiamo giocato una partita dura, abbiamo vinto in Macedonia giocando un'altra partita dura, ma eravamo sicuri che loro sarebbero venuti qui per riprendersi. La partita è stata durissima, non è stato facile, però alla fine siamo riusciti a vincere la partita.